Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli a sequestro tra Marano di Napoli e Sanremo di un ingente patrimonio del valore di oltre 2 milioni di euro riconducibile ad uno storico contrabbandiere di sigarette. Le fiamme gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato tre immobili, oltre a beni mobili di lusso e disponibilità finanziare, riconducibili dal napoletano Caffiero Rocco, detto O Capriariello, condannato nel 1987 dalla Corte di Appello di Bologna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nel 1988 dalla Corte di Appello di Palermo per associazione per delinquere e per associazione finalizzata al traffico di sostanti stupefacenti e nel 1993 dal Tribunale di Roma per contrabbando. Il provvedimento ablativo è stato messo a seguito della sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette a carico del proposto e scaturisce degli accertamenti economico patrimoniale effettuati dagli specialisti delle fiamme gialle partenopee. Infatti il monitoraggio effettuato dal GICO di Napoli ai sensi del codice antimafia ha fatto emergere, grazie agli scontri sviluppati anche attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo, una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite di cui il soggetto disponeva ufficialmente e il patrimonio di beni mobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato.